Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati alla nuova puntata di Turbo Daily, oggi parliamo di un titolo americano in particolare di Amazon che in seguito alla trimestrale appena rilasciata ha mostrato della debolezza, come sapete io sono un grande sostenitore dell'azienda di Jeff Bezos e sono convinto che questo potrebbe essere un momento transitorio al netto che appunto stiamo comunque parlando di una delle più importanti aziende del mondo ma andiamo sul grafico e facciamo una valutazione un po' più approfondita di quello che sta avvenendo, allora il titolo ha avuto un movimento rialzista veramente importante negli ultimi anni nell'ultimo, insomma fino a settembre del 2020, poi abbiamo visto una fase sostanzialmente di lateralità laddove però secondo me in ogni qualvolta appunto c'era una fase di storno poteva essere un'opportunità di acquisto, qui facciamo due valutazioni quella per il breve termine quella per il lungo termine, allora per quanto riguarda l'operatività di trading abbiamo questi due minimi e quindi possiamo tranquillamente entrare secondo me su quest'area cercando di sfruttare un buon rapporto rischio rendimento ma vorrei aggiungere qualcosa, la struttura dei prodotti offerti da Mempia Paribas ci danno una serie di vantaggi il primo che su Amazon sono open-end e quindi significa che non hanno scadenze posso mantenerli per tanto tempo e quindi sfruttare eventuali rialzi nuovi massimi di Amazon che io ritengo sarà più in alto se andiamo a vedere quello che è un orizzonte temporale di lungo termine rispetto ai prezzi che vediamo oggi e in secondo luogo posso frazionare l'investimento quindi posso comprare con capitali molto più ridotti, sappiamo che un'azione Amazon oggi vale 3.300 dollari circa e quindi magari un investitore potrebbe ritenere questo importo rilevante, importante quindi tramite i certificati possiamo sfruttare questa cosa. Andiamo quindi appunto sul sito di investimenti.bnpparibas.it per capire come fare questo tipo di operatività, dobbiamo cliccare su certificati a leva, Turbo e Mini Future, andiamo nella sezione dedicata e all'interno di questa sezione possiamo andare a cercare il sottostante Amazon all'interno del sottostante, diciamo nella sezione azioni. Qui troviamo tutti i prodotti suddivisi appunto tra Turbo e Mini Future, nello specifico in questo caso sono Turbo, Unlimited, Long e Short quindi in entrambe le declinazioni, io sono andato a prendere un prodotto che avesse una leva diciamo media, si tratta del NL0015447806 che come potete notare in questione ha una leva di circa 5 volte e mezzo. Il livello di knockout che ricordiamolo annulla completamente il valore dell'investimento, è posto a 2.860,82 dollari e dista il 13% dai prezzi attuali. Quindi come andiamo a impostare la strategia? Beh molto semplice, andiamo all'interno della piattaforma di negoziazione, inseriamo l'ISIN di cui abbiamo parlato precedentemente e il prezzo al quale vogliamo acquistare. In questo caso appunto io vorrei andare a prendere in caso di storm, in caso di piccola correzione dei mercati che secondo me oggi potremmo vedere il titolo Amazon, adesso il nostro portafoglio è diciamo esposto sostanzialmente più al ribasso che al rialzo e quindi voglio anche andare ad acquistare. L'operatività può essere fatta in due modi e poi appunto lo possiamo vedere che è un'operatività di trading come quella che abbiamo fatto vedere oppure un'attività di accumulazione ogni qualvolta vi fossero dei minimi. Andiamo a inserire il nostro ordine 4,70 euro, clicchiamo su buy e attendiamo di essere eseguiti. Siamo all'interno del book di negoziazione, adesso attendiamo magari anche l'apertura degli Stati Uniti da dove gli spread diventeranno anche più competitivi rispetto a quelli del mattino, questo è un consiglio pratico e operativo che vi do. Andiamo quindi infine a ricapitolare quello che è il trade proposto nella giornata di oggi, si tratta di un'operazione a rialzo sul titolo Amazon a 3.260 dollari per azione, lo stop loss lo andiamo a posizionare a 3.148 dollari per azione per quanto riguarda il target price sulle precedenti aree di massima 3.538 dollari dove appunto l'azienda ha trovato delle resistenze ma io sono degli tanti idea che nel lungo termine Amazon sarà un'azienda che continuerà a performare benissimo. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, vi ricordo alle ore 17.30 l'appuntamento con House of Trading nel quale sarò protagonista. Buona giornata e buon trading a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.